L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver valutato la diffusione globale dell'infezione da SARS-CoV-2, aveva dichiarato che l'epidemia di Covid-19 era una pandemia. Da allora la Johns Hopkins University di Baltimore, negli Stati Uniti, ha raccolto costantemente dati, in tempo reale, dai principali enti sanitari internazionali e nazionali. Dopo tre anni di monitoraggio continuo, ora ha interrotto le attività di aggiornamento, come comunica sul sito ufficiale, che ha avuto in questi tre anni più di 2,5 miliardi di visualizzazioni. Il bilancio dell'Istituto dà conto di 676 milioni di casi accertati, 7 milioni di morti, 13 miliardi di dosi di vaccino somministrate in tutto il mondo. La pandemia sarà finita ufficialmente quando l'OMS dichiarerà la sua fine e potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Dopo tre anni l'OMS ha riunito di nuovo il Comitato di Emergenza a fine gennaio, ma gli esperti hanno deciso di mantenere lo stato di emergenza perché in quel momento c'era un'epidemia rilevante in Cina. Attualmente siamo in una fase di transizione, c'è quindi cautela ma con un buon grado di ottimismo. Molto probabilmente nelle prossime settimane l'Organizzazione Mondiale della Sanità riunirà di nuovo il Comitato di Emergenza. Il Ministero continua a monitorare la situazione, mantenendo la sorveglianza, ma non c'è in questo momento un livello di allarme. L'impatto sulle strutture sanitarie è molto basso, l'incidenza di nuovi casi è relativamente bassa. In tre anni di pandemia la Johns Hopkins University ha fornito, in tempo reale, al pubblico, ai responsabili politici, agli esperti di tutto il mondo, informazioni affidabili. I dati raccolti su contagi, decessi, vaccinazioni tra il 22 gennaio 2020 e il 10 marzo 2023 rimarranno accessibili e gratuiti sul sito web.